Bed and boarding, il nuovo format di ospitalità caratterizzato da moduli abitativi autonomi, è stato inaugurato all'aeroporto di Capodichino. Siamo parlando di 1130 metri quadrati, con all'interno 42 capsule, di cui due per diversamente abili. Sono tutte quante singole ma comunicanti, quindi nel momento in cui arriva una mamma con un bambino, piuttosto una coppia, all'interno si può cedere da una capsula all'altra. Sono tutte servite singolarmente da aria condizionata, la luce indipendente, smart tv con anche flight track, quindi è possibile visualizzare il proprio volo nel momento in cui se ne ha bisogno. Bembo, questo è il nome del progetto realizzato da un gruppo di imprenditori in collaborazione con GESAC SPA, grazie al quale sarà possibile dormire in aeroporto in attesa del proprio volo. Una formula semplice, molto ben organizzata, veloce e soprattutto economica per poter dormire o un'intera notte o anche semplicemente per riposare durante la giornata. Nel caso sfortunato di qualche ritardo, di qualche coincidenza saltata, perché qui c'è la possibilità anche durante la giornata, prendendo la nostra cabina per un'ora, per due ore, soltanto anche per fare un riposo o farsi un cambio di abito, una doccia, per lavorare al computer, perché tutte le nostre postazioni sono comunque collegate con internet, quindi c'è la possibilità di lavorare anche. 42 capsule di circa 4 metri quadrati a disposizione dei passeggeri che ne potranno usufruire con prezzi accessibili e vantaggiosi, 8 euro la prima ora, 7 euro dalla seconda ora in poi, 25 euro le 9 ore notturne. Sono tre anni che cresciamo a ritmi veramente forzennati, solo rimanendo al 2016 siamo cresciuti del 10% come traffico, il traffico internazionale è cresciuto del 20%, l'anno prossimo ci aspettiamo una crescita simile o addirittura superiore, con le rotte che tre anni fa erano 50 diventeranno 85, quindi è un aeroporto, è una città molto più connessa del passato, con tante più rotte, tanti più servizi e quindi anche tanti più turisti.